La giacca da cuoco Pretoria è unisex, comodissima, molto pratica, decisamente trendy e dice finalmente basta al sudore perché fa respirare la pelle, è l'indumento ideale da indossare quando fa caldo o negli ambienti molto afosi. Chi sono i principali utilizzatori della giacca Pretoria? Gli chef, i cuochi, i lavapiatti, i pizzaioli, i pasticceri, i cioccolatai, i gastronomi, gli studenti dalle scuole alberghiere e tante altre categorie di lavoratori che operano in ambienti molto caldi e poco areati. Oppure chi lavora a contatto col pubblico e ha bisogno di indossare un capo fresco, comodo e bello da mostrare. Perché è conveniente indossare una giacca da cuoco Pretoria della linea Isacco? Ecco alcuni buoni motivi. Uno, perché fa fare sempre bella figura a chi la indossa. Due, perché viene realizzata nello splendido tessuto di poliestre cotone Extra Light che dura tantissimo nel tempo rimanendo sempre impeccabile nonostante i ripetuti lavaggi aggressivi. Tre, perché il nero rimane sempre nero senza mai scolorire. Quattro, perché è molto conveniente, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Cinque, perché è dotata di comodissimi bottoni a pressione, ideali per chi è sempre fretta. Sei, perché ha un comodo taschino all'altezza del cuore e un taschino portapenna, portatermometro diviso in due parti sulla manica sinistra e due praticissimi spacchi laterali. Sette, perché sotto le ascelle e per il retroschiena è stata utilizzata la pregiata rete Microfor che facilita il movimento, migliora la traspirazione e non va stirata. Otto, perché l'innovativo tessuto Extra Light di poliestre cotone con cui viene realizzata fa respirare la pelle, assorbe il sudore dicendo stop a quegli antipatici e antiestetici alone di sudore che danno un senso di sporcizia e di trascuratezza. Nove, perché il tessuto Extra Light Isacco è leggerissimo come una piuma, è morbido al tatto, è fresco, rimane bello anche durante il servizio e non si stira. Ma su, dai, cosa aspetti a comprarla anche tu? Chi indossa la giacca da cuoco Pretoria della linea Isacco lavora bene e in comodità, fa sempre una bella figura e risparmia tempo e denaro.